Si apre una settimana importante in casa Catania, una settimana che potrà determinare diversi aspetti della prossima stagione. Come sempre sono tante le situazioni da sistemare tra campo e scrivania. La di Pietro Lomonaco in questo senso sarà parecchio impegnato. Sul fronte allenatore si attende la firma di Cristiano Lucarelli, accordo fatto su tutto e nonostante l'inserimento di altri club li lega però alla fine il tecnico Livornese manterrà la parola data al Catania. Questione di giorni ed il primo tassello sarà ufficializzato. Con lui tornerà ai piedi dell'Etna anche il preparatore atletico Alberto Bartali, esperienze anche in Serie A e allo Zenit San Pietroburgo. A quel punto si andrà a caccia dei rinforzi giusti, Colomonaco e D'Argurio, che scandagliano soprattutto il mercato di Lega Pro. In arrivo un difensore d'esperienza, Raffaele Alcibiade, classe 90 in scadenza di contratto a Lecce. Andrà a colmare le partenze delle ultime settimane nel reparto difensivo. Continua a piacere anche un altro difensore ingrosso del Matera. Sull'Itteri del Cittadella invece bisognerà trovare un non semplice accordo con i Veneti. Da seguire anche la vicenda a Rinaudo, la Diro Monaco continua a trattare con lo Sporting Lisbona, cercando la chiave per sbloccare la situazione. L'intenzione dei portoghesi rimane quella di ricevere l'intero saldo in un'unica soluzione, aspetto che il Catania difficilmente riuscirebbe a garantire. La cessione del Papu Gomez, tutt'altro che certa, potrebbe dare liquidità grazie alla percentuale del 20% che toccherebbe alla società etnea. Capito l'iscrizione al campionato, entro oggi andrà depositato alla Covizoc il prospetto contenente il rapporto patrimonio netto della società rossa-azzurra.